Buongiorno, sono Paolo Leporieri, direttore vendita di Italcaffè. Oggi vi presentiamo la nuova macchina Italcaffè Espresso System e la gamma di capsule Italcaffè per questa macchina. Per cominciare bisogna accendere la macchina con il pulsante posto sul retro della macchina stessa. Noterete che la lampadina comincia a lampeggiare, quando la lampada diventerà fissa, la luce verde sarà fissa e la macchina sarà pronta per operare. Per mettere dentro una capsula di Italcaffè Espresso Bar, prendere una capsula, un bicchierino, porlo sotto il beccuccio della macchina, aprire lo sportello della macchina, richiudere e quindi pigiare il pulsante con la tazzina. In pochi secondi la macchina comincerà a estrarre il caffè e verrà fuori un caffè molto corposo e cremoso. Come noterete la macchina è estremamente silenziosa. Si tratta di una macchina delle caratteristiche innovative con un processo di infusione a livello delle macchine professionali da dare. Una volta che il caffè sarà estratto, basta ripigiare il pulsante con la tazzina e prendere il vostro caffè. Come potete notare il caffè è estremamente corposo, si presenta estremamente bene. È un caffè all'altezza dei migliori caffè da bar. Come avete potuto vedere la macchina è estremamente silenziosa, ma non è solo una macchina estremamente silenziosa e che fa un caffè molto cremoso e dolce. È una macchina che è estremamente pratica con un sacco di accessori. La macchina per esempio può essere caricata con l'acqua di lato, con questa vaschetta laterale, dove viene messa dentro l'acqua. All'interno c'è un filtro anticalcare che garantisce la lunga durata della macchina. Sul davanti c'è il cassetto porta capsule. Come potete vedere ogni volta che viene praticamente estratto il cassetto o aperto o sportello dell'acqua, la luce comincia a lampeggiare in modo rosso. Questo è il cassetto dove vengono contenute e buttate automaticamente le capsule. Una delle peculiarità di questa macchina è che quando praticamente finisce l'acqua o il cassetto delle capsule si riempie, la macchina si blocca e comincia praticamente a emettere una luce rossa. Per cui praticamente questo vi garantisce contro eventuale malfunzionamento e quattro di uso della macchina. La gamma di prodotti di tal caffè per questa macchina si basa su tre miscele base. Abbiamo a disposizione una miscela praticamente classica, che è il nostro caffè espresso bar. Abbiamo a disposizione una miscela 100% arabica e abbiamo a disposizione una capsula decaffinato. Con queste tre miscele voi potete soddisfare le esigenze del 95% della vostra clientela. La macchina di tal caffè espresso system a capsule è insomma la macchina adatta per soddisfare la vostra clientela più esigente. Grazie. 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 Grazie.